Allora, sabato sera alle otto e mezza giocheremo la seconda gara del giornale di ritorno contro finale Emilia, quindi ci ritroviamo per il derby di ritorno. Come tutti i derby è una partita delicata perché ovviamente non è soltanto una questione di palla canestro ma è una questione anche di emotività, di emozioni. Bisognerà essere bravi ad approcciarla nella maniera corretta, nella maniera giusta e incanalare queste energie nel permetterci di fare, che ci permettano di fare un qualche cosa in più tecnico, che non si crei una sorta di cortocircuito emozionale che ci potrebbe invece danneggiare. La squadra si presenterà al completo, abbiamo recuperato tutte le ragazze infortunate e ci stiamo preparando al meglio per quella che è una partita assolutamente insidiosa. Sappiamo quello che dobbiamo fare, le conosciamo bene, ci hanno giocato spesso contro e loro hanno la lunga Goldoni che è molto forte fisicamente e rimbalza d'attacco, lavoreremo su quello e speriamo di riuscire a fare bene.